Coranuvole si addensano sulla crescita economica del nostro paese. L'Istat taglia le stime di crescita del prodotto interno lordo guardando al ribasso, da più 1,3 a più 0,3%. Una forte revisione rispetto ai dati forniti a novembre, spiega l'Istituto, perché la decelerazione dei ritmi produttivi inciderebbe anche sul mercato del lavoro. Se nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno, si registrerebbe invece un lieve aumento del tasso previsto di disoccupazione, più 10,8%. Moderato l'incremento stimato dei consumi delle famiglie, con un aumento di mezzo punto e soltanto in forma limitata, si legge, dovuto alle misure sulla reddito di cittadinanza. Dal mondo delle imprese, nell'Assemblea di Confindustria, in corso oggi a Roma, interviene il presidente Vincenzo Boccia. Lo spread va riportato a livelli sostenibili, ma il bilancio non sarà in dolore. Per evitare un autunno freddissimo bisogna collaborare tutti insieme. Ha bisogno di decisioni capaci di incidere a lungo e nel profondo nel corpo della società, anche se al momento possono risultare impopolari. Ma la bulimia di consenso immediato affida ai social la ricerca di una popolarità che si misura in termini di like. E il presentismo imperante è una malattia molto grave, perché impedisce di vedere oltre il finire del giorno. Grazie.